Vede la Madonna, vede, vede quale l'azzo zousa, ma una dracchita e murta, strana murta, che ho affatto questo bastardo, questo bastardo che ho affatto, che sta? Ma vede la Madonna, vede la Madonna, quando stai a camminare! Va bene, ora mantiene, mantiene Massimo perché ora come sta l'interruttore mantiene. Se avete necessità di... Eventualmente, ma spero di no. Spero di no, vado a stare là. Vado a mangiare, va. Ok. Ciao! 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 Grazie a tutti.